Cagliari per me non è stata una scelta difficile, io sono molto contento di essere qui, sono molto orgoglioso del fatto che la società abbia deciso di riporre fiducia in me, spero di ripagarla sul campo con voglia di lavorare e voglia di mettermi a disposizione dei compagni e dell'allenatore. C'è grande voglia di riscatto, c'è grande voglia di uscire da questa situazione con grande unione di intenti, grande spirito di sacrificio e di voglia di calarsi in questa situazione e di uscirne tutti insieme attraverso il lavoro, attraverso voglia di aiutarsi e voglia di reagire soprattutto, visto il momento particolare che stiamo vivendo, che spero finisca presto. Conoscevo già qualcuno e ho già avuto un'ottima impressione del gruppo, credo che abbia dei valori sia tecnici che umani per poter uscire da questa situazione, credo che abbia dei giocatori importanti con una grande esperienza dai quali si può sicuramente imparare e prendere le cose positive per uscire da questo momento. Sono un difensore d'utile, credo di poter ricoprire tutti i ruoli della difesa, l'ho fatto nell'arco della mia carriera e ho avuto la fortuna di incontrare allenatori che mi hanno improntato in diversi ruoli e dato una scuola per poter interpretare tutti i ruoli della difesa. Credo che questo possa essere un valore aggiunto dal punto di vista tecnico per l'allenatore e penso di potermi mettere a disposizione appunto dove meglio crede lui. Per quanto riguarda quello che posso dare, io garantisco massimo spirito di sacrificio, massimo impegno e credo che attraverso la cultura del lavoro, attenzione e dedizione le cose poi vengano in maniera naturale. Sono contento, come ho detto, di essere qui e spero di potermi mettere al più presto a disposizione dei miei compagni, dell'allenatore e di tutta la società. Credo che non si smette mai di imparare, soprattutto in uno spogliatoio come questo dove ci sono grandi campioni che hanno giocato in grandi palcoscenici e hanno un'esperienza importantissima. Io nel mio piccolo ho fatto la mia esperienza, ho fatto la gavetta, so cosa vuol dire lottare per ottenere qualcosa. Se sono qui oggi è perché me lo sono guadagnato sul campo attraverso il lavoro e quello che ho fatto nel corso degli anni. Credo che l'esperienza dell'anno scorso in Francia sia stata un'esperienza importante per me che mi abbia formato, oltre che come giocatore, anche come uomo, come persona. Credo di poter mettere a disposizione del gruppo la mia esperienza, nonostante la giovane età. Spero di poterlo fare, insomma, al più presto. Faccio un saluto ai tifosi del Cagliari. Forza Casteldu!